La spezia Fine anni venti. Sono gli anni del regime. La propaganda è già ampiamente diffusa. Lui è un tipo tarchiato, con un paio di baffi enormi. Romano di nascita, classe 1875 e spezzino di adozione. Intende soddisfare le sue perversioni riguardo a donne, denaro e sangue. Io mi chiamo Cesare Serviati, ma tutti chi mi chiamo ce ne stai ad areta a certi fatti. A grona che hai man fatto negro come la Lely. A ne me mai c'è un travaggio, professione troncadone da viaggio, da fare ne cascai mai tante i miei bè. Martempo in età bella d'agio ed è ne so' ciuffante. Ora so' disoccupato sui 60 e cerco un M.G. Alla voi si tele sema. Alla voi chi mi mantiene e coi se palanche faga tutto quello che dico me. A son venuto su da Gavidale e s'annamorato di sta terra da non credere. Il corpo di poeti e il panorama porto venere. Bocce di belle donne da fasse tanti ossetti come guanno macellava il mattatoio del trastevere. Sto qua sto chile da segnai come nido d'amore e si le chicche con basi in gampioe. A feo sognai signore a darmi pianghi ne ha bisogno dar tre parole. Ho miso annunci in tutti i quotidian, aspeto donne sole. Pensionato ben retribuito conoscerebbe signorina libera, indipendente, con mezzi propri, preferibilmente cameriera. Scopo? Matrimonio. Pensionato ben retribuito conoscerebbe signorina libera, indipendente, conoscerebbe Da chi lo fa, non c'è l'altro che vado a fare, un'altra cosa che vado a fare, non c'è l'altro che vado a fare, non c'è l'altro che vado a fare. Gli gambe e il cotto è un'altra cosa che vado a fare e non c'è l'altro. E lo chiamarlo è di adesso e la salsa e il bollia carregato e valigia in cima a un vagon. OIME! 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 E' la semina di eroide qui e di là Pa' guanti e parto finchè nella nocia fa E' la gente in giro l'esto qui è il tormentone E lo vero che sopra davanti è un plotone OIME! 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 Sono gli anni 30 Il regime, beh, quello continua a reprimere l'Italia C'è un treno, il numero 7 Proviene da Nord e arriva a Napoli Su questo treno la milizia trova due valigie Sono pesanti e puzzano Anzi, emanano un odore nauseabondo All'interno delle valigie vengono scoperti i frammenti di un corpo di donna Ma non tutti Il resto del corpo, infatti, viene rinvenuto in una terza valigia Su un altro treno il numero 5 Nella tratta Torino-Genova-Roma Io mi chiamo Cesare Serviati E tanti chi mi ha diso C'è, te l'hai sentuta quella donna C'è tesi che tu si la dici E l'hanno trovato Tocchi in te la valigia Ante in treno che veniva da spesa Ma io non mi interesso Tanta gente in giro E si imbaccia di quei come me Che servano dalla neve E chi ne gana un sito bugante a stacca Ma ormai c'ho qualcosa Che vanno qualcuno che l'assassino lo ciappa A te per troncadone tua Le troppa la paura E a via della polizia Le bella che va due E va bene Allo qua te tocchi i mestri E tre i bagasse In fondo la pedasse E quando c'è ne spiuse Che da liberasse In copia di donne Poco cognosù Senza parenti e amighi All'ostro salvatà Già salacchi Ne fa se i suoi bighi De poco conto per l'esecuzione Dembra buono come a son Invece a tutti ce le buono Lui chi ne fa tocchi a milioni Maledetti A pava i casi me A vorre che accangio Ma di agoda i spiare i peccati Ananti a santo ciongio In seguito al ritrovamento delle tre valigie La polizia indaga E scopre i resti di altre due povere donne Uccise nello stesso modo E dalla stessa persona Cesare Serviatti Retroncadone Che viene giustiziato A Sarzana Da un plotone di esecuzione Il 13 ottobre del 1933 A vederlo morire Accorre una folla oceanica Più di 5.000 persone Provenienti da tutti i dintorni Maledetti 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 DANGUE!